9 appuntamenti sotto alle stelle accompagnati da una commissione di note che spaziano dal jazz alla musica classica, quella prettamente strumentale con illustri rappresentanti di ogni genere in una cornice che affascina e rende uniche le atmosfere proposte. Ci sarà musica classica, musica jazz, musica etnica il primo concetto sarà quello dell'insieme strumentale di Roma che è il gruppo in residenza del festival da me diretto in un programma che terminerà con il sesto concerto brandeburghese di Bach ci saranno tre mostri sacri del jazz italiano che sono Danilo Rea che si esibirà il 10 Gabriele Mirabassi con Roberto Taufic il 20 e Roberto Gatto il 21 insieme a poi molti altri concerti di musica da camera. Dal 6 al 21 agosto sarà possibile seguire le diverse proposte perché no, godersi anche lo scenario che ospita il festival intitolato per l'occasione campi di note. È infatti Campodigiove in provincia di L'Aquila ad aver intuito quattro anni fa la potenzialità di un appuntamento così affascinante per turisti e appassionati di buona musica. L'amministrazione comunale ha inteso e intende promuovere diciamo così la vocazione turistica del proprio territorio non solo facendo leva sulle bellezze naturali che indubbiamente possiede ma anche organizzando eventi culturali di rilievo e la manifestazione Campodinote è uno di questi di rilievo per ragione degli artisti che si esibiranno di levatura internazionale sono veri i fuori classe della musica si può dire e che sono capaci di attrarre una platea ben più ampia di quella ristretta ai soli ammiratori, ai soli appassionati. Grazie.